Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video diverso dal solito perché spiego, in tanti live su Twitch mi avete chiesto, spiega la tua vita, com'è iniziato a fare la carriera, com'è iniziato la carriera da youtuber, da cantante, bene sì, io ve lo spiego. Ve lo spiego, però voi lasciate like, iscrivetevi al canale e vi aspetto tutti i giorni live dall'una e mezzo alla sera, vi aspetto tutti i giorni live da quell'ora e direi di iniziare a parlare di me. Let's go! In pratica io ho iniziato la mia carriera dal 2020, dal 2020 ho iniziato a comprare la fisarmonica, la chitarra, il microfono e ho iniziato così, perché vi vi spiego anche il perché ho iniziato a farlo, perché ho conosciuto questo famosissimo cantante, Luca Bassanese, l'ho conosciuto nel 2016, nel 2016 ho conosciuto Luca Bassanese che mi ha fatto riconoscere, mi ha fatto conoscere il dialetto padovano, vicensaro, lì come si dice, ho detto, ma perché non inizio anche una carriera da cantante, da youtuber, che mi piace avere? E' da lì che ho iniziato amare la musica, è da lì che ho iniziato tutto, ho iniziato tutto da lì ad avere questa passione della fisarmonica, della chitarra, del piano forte, del microfono, il mio strumento preferito è la voce, è la voce che puoi riconoscere tutto ciò che hai in mente, quando uno ti chiede com'è che hai iniziato la carriera, ecco, io ve lo sto spiegando in questo video perché ho iniziato la carriera dal 2016, come vi ho detto prima, ed è così, è nato, è nato questo, questa, mi è nata dentro il cuore la passione della musica, del dovere, ho iniziato anche a fare album, è nato l'album Reset, dell'album Reghi Pagliaccio, l'album Emma Perfetti, è nato addirittura l'album Nina, l'ultimo album che ho fatto pochi giorni fa ed è fino al primo dicembre, dal primo novembre è uscito e il primo dicembre esce un altro album, dobbiamo sempre decidere che album non lo sai, quindi è dal 2020 che faccio il cantante, lo youtuber e da lì ho iniziato anche a fare album, album nel senso album belli, album che alla gente piace e alla gente piace questa musica, questa passione della voce, di pisa armonica, pianoforte, chitarra ed è così, è così, è così, è così che è nata, è nata questa passione della musica, poi sapete che io in pochi giorni, in pochi anni, in pochi mesi ho iniziato anche a fare video su Fortnite, su FIFA, su GK, insomma, ed è lì che è nato un canale, è nato un canale YouTube, da come vi ho detto, ho iniziato anche a fare anche le live streaming, ho iniziato a fare di tutti e di più, quindi è il momento che voi veniate, venite, voi dovete venire a tutti i concerti, ho iniziato anche a fare i concerti, voi questa cosa non la sapevate, ma tipo il 22 novembre finiscono i concerti, iniziamo l'1 gennaio ed è lì venerdì, venerdì questo che viene, siamo in Finlandia, siamo in Finlandia ed è così, è così che è nata tutta questa storia da cantante, da youtuber, è lì, è lì che è nata, così è nata la mia vita, quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, venite tutti i giorni in live dalle ore l'una e mezza, ok? Ciao belli, grazie per aver visto questa live, aspettate tanti video, oggi è un video diverso dal solito, però voi venite sempre in live, vi aspetto i live tutti i giorni, ora stasera farò un altro live, ora vedo, o domani ora vedo, perché oggi non è, che ho tanta voglia, cioè anche io mi voglio riposare un po' da Fortnite, voi guardatelo questo video e iscrivetevi al canale che questo video vi interesserà, voi mi chiedete nei commenti, su questo video voglio commenti, quando è che ti torni su Fortnite, raga, in tutto novembre qualche video su Fortnite te le rifarò, quindi ora vi ho spiegato la mia carriera da cantante, e ah, mi sono scusato a Givi, che a me piace Ronaldo, mi piace Messins, un abbraccio, ciao belli, venite tutti i giorni in live, vi aspetto, ciao belli, ciao 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 ciao